Romina Power è tornata a casa di Albano. La foto non lascia dubbi. Romina Power continua a far parlare di sé, soprattutto dopo essersi mostrata di recente a casa dell'ex marito, Albano. La cantante ha condiviso una Instagram Stories in compagnia del figlio, Yari Carrisi, rivelando di trovarsi nelle tenute Albano, presso Cellino San Marco. Ecco perché. Nonostante il loro matrimonio sia finito da oltre vent'anni, c'è chi ancora sogna un ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Romina Power. Un ritorno smentito da parte di entrambi in più occasioni. Eppure, di recente la celebre cantante ha fatto nuovamente ritorno nella tenuta di Cellino San Marco, di proprietà del proprio ex marito. È stata la diretta interessata a condividere una Instagram Story sul proprio profilo, in compagnia del figlio Yari Carrisi. Lo scatto ha attirato la curiosità dei follower. Curiosi di sapere il motivo per cui la cantante abbia deciso presentarsi a Cellino San Marco. Ecco svelata la verità. Perché Romina Power è tornata a casa di Albano? Ecco cosa è successo. Romina Power e Albano sono stati sposati per quasi trent'anni, e dalla loro unione sono nati quattro figli. Nel 1999, i due hanno deciso di separarsi, divorziando in via definitiva nel 2012. Per molto tempo i rapporti tra i due sono stati tesi, fino a quando nel 2013 hanno sorpreso tutti con la loro ritrovata complicità. Ma solo in scena. La coppia si è infatti, ricongiunta, solo artisticamente, quando ha annunciato una serie di concerti in Russia. Da allora, i due hanno preso parte a diversi eventi insieme, tornando in qualità di ospiti anche al Festival di Sanremo. C'è stato chi ha sperato in un ritorno di fiamma, sebbene ormai entrambi abbiano più volte specificato di essere passati oltre. Da ormai vent'anni, infatti, Albano è legato a Loredana Lecciso, da cui ha avuto altri due figli, Albano Junior, e Jasmine. Già in occasione del lockdown, la cantante aveva fatto parlare per aver trascorso i mesi di quarantena nella tenuta di Albano. Ora, il ritorno di Romina Power a Cellino San Marco, ha nuovamente attirato l'attenzione dei follower. Tuttavia, il suo arrivo nella tenuta dell'ex sarebbe motivato da uno scopo ben preciso. L'artista, infatti, avrebbe preso parte a un ritiro yoga, organizzato dal Centro Dvine Yoga proprio nella proprietà di Albano, frequentato sia da lei che dal figlio Yari Carrisi. Da molti anni, la cantante ha scoperto i benefici della meditazione, una passione che avrebbe in comune proprio con il suo secondo genito. Eccoli infatti insieme.